Così almeno possiamo vedere che... In previsione del Covid che già i casi all'interno della nostra provincia stanno aumentando, vorremmo degnità per i lavoratori in quanto è un atto dovuto e hanno messo il massimo impegno in questo periodo. Sono tante persone ancora preoccupate lungo le corsie degli ospedali? Assolutamente sì, c'è sia la preoccupazione dell'aumento dei casi di Covid e sia la preoccupazione in quanto non vengono riconosciuti come professionisti e debitamente retribuiti. A questo si aggiungono i problemi legati alla carenza di personale. Mancano medici, infermieri e os, ci fanno sapere. Intanto è stata richiesta la procedura di conciliazione alla prefettura che dovrà convocare le parti interessate entro cinque giorni. Siamo arrivati a quest'azione, spiega Alessandro Contadini, dopo mesi di richieste inascoltate. Le risorse non sono sufficienti, precisa, e la ripartizione è stata calcolata sulla base dei dati storici e non sulla situazione straordinaria legata al coronavirus. La nostra provincia è stata la più colpita nelle Marche. I dipendenti sono molto arrabbiati, forse la parola corretta sarebbe delusione, per non vedersi e riconoscere la loro professionalità. Professionalità che hanno sempre dimostrato, anche durante i mesi più complicati del Covid, ed è bene ricordarlo che hanno rinunciato alla propria famiglia per non portare il virus a casa. Sono stati obbligati a lavorare anche in condizioni precarie di sicurezza in termini di dispositivi, non riconoscere il loro lavoro, la loro professionalità, come invece è stato riconosciuto a colleghi della stessa provincia. Mi riferisco ai dipendenti dell'azienda ospedaliera Marche Nord, che con la busta paga di agosto gli è stato riconosciuto il premio Covid. Negarlo ai dipendenti dell'area vasta 1, che ricordiamo sono i dipendenti su cui è gravato il peso maggiore del Covid, perché noi siamo la provincia, territorialmente, che ha avuto il maggior numero di casi positivi, il maggior numero di decessi, ed è bene ricordarlo anche il maggior numero di dipendenti contagiati dal virus, probabilmente in corsia. In caso di esito negativo della procedura di fronte al prefetto, i sindacati procederanno con altre iniziative. Non escludiamo di ulteriori strumenti di mobilitazione, compreso una prima giornata di sciopero.